è una radiosa giornata di sole e papà pig non fa niente come al solito papino che cosa stai facendo sto leggendo il giornale peppa però stai facendo il suono buffo come mai sto fischiettando fischiettare è divertente dovresti provare ma non so come si fa è facile devi soltanto unire le labbra e poi soffiare mette le labbra forma di o provaci mamma pig è in cucina a preparare i biscotti cosa stai facendo peppa sto esercitandomi a fischiare ho capito mamma tu sei capace di fischiare non lo so non ho mai provato ci vuole tantissimo esercizio ce l'ho fatta mamma pig sa fischiare facile per te riesci a fischiare perché sei vecchia e perché sei vecchia e perché sei vecchia e perché sei vecchia giorgio gioca con il suo razzo in camera da letto giorgio ascolta ora ti insegno a fischiare giorgio sa fischiare posso invece telefonare a susy pecora per favore d'accordo peppa ragazzi salve signora pig salve signora pecora peppa potrebbe parlare con susy ciao come stai susy ciao peppa che cosa stai facendo sto imparando a fischiare ma purtroppo ancora non ci riesco deve essere molto difficile e come è quasi impossibile tu sai fischiare susy no oh bene voglio dire mi dispiace che tu non sappia fischiare ma sono contenta perché neanche io ci riesco scusa peppa ma come si fa a fischiare devi unire le labbra e poi soffiare in questo modo pronto ci sei ciao